Bene, buongiorno, sarò abbastanza veloce senza tanti preamboli anche perché l'argomento di oggi che è il ruolo della medicina funzionale, della medicina mitocondriale nella medicina funzionale in realtà è un argomento che l'Istituto Financial Medicine, adesso si, stavo dicendo che sarò veloce perché l'argomento che mi è stato dato, il ruolo della medicina mitocondriale nella medicina funzionale ma con riferimento a longevità, in realtà per esempio è il tema di un corso di formazione dell'Istituto Financial Medicine User, che dura tre giorni, quindi condensare il tutto in 19 minuti è un po' difficile quindi andrò un po' veloce anche nelle diapositive che vi esporrò, che poi però rimarranno a vostra disposizione e ve le potrete poi guardare un po' più con calma. Fondamentalmente nel 2013 erano stati identificati ben nove segni distintivi dell'invecchiamento dopodiché nel 2023 c'è stato un aggiornamento e questi segni distintivi sono diventati dodici ebbene questi segni distintivi sono per esempio la senescenza cellulare, non mi soffrerò, sono ognuno di questi ovviamente praticamente l'esaurimento delle cellule staminali, l'infiammazione cronica, la disbiosi, l'instabilità genomica, l'accorciamento dei telomeri, l'alterazione epigenetica, la perdita di proteostasi, appunto l'alterazione della macroautofagia e anche l'alterazione della comunicazione intercellulare. Ebbene, per ultimo, ma lo dico per ultimo perché poi lo tratterò in maniera un po' più esaustiva, la disfunzione mitocondriale, qui quindi è appunto una delle cause dell'invecchiamento. Bene, l'approccio terapeutico per quanto riguarda la disfunzione mitocondriale va affrontato ovviamente prima con la diagnosi, cioè bisogna rendersi conto se esiste. Poi l'approccio nutrizionale è fondamentale nell'ambito della medicina funzionale, la medicina funzionale è una branca della medicina di tipo preventivo che utilizza molto la dieta e l'integrazione, cioè supplement per poter intervenire a migliorare le disfunzioni e lifestyle medicine, cioè gli stili di vita. Quindi noi vedremo un po' questi aspetti. La diagnosi, normalmente la diagnosi, il golden standard della diagnosi è la biopsia, la biopsia a livello muscolare o agli altri tessuti, ovviamente però la biopsia capite bene che è un trattamento un po' invasivo, recentemente ci sta orientando verso semmai altri criteri diagnostici che possono essere il test di DNA che già indica una notevole partecipazione a questo, oppure il Bionetic Health Index che è un indice di funzionalità mitocondriale che prende in considerazione vari parametri come il consumo di ossigeno a livello mitocondriale da parte delle cellule del sangue, sia linfociti che i monociti e anche la respirazione basale, la produzione appunto di ATP, la perdita di protoni, eccetera. Quindi prendendo in considerazione tutti questi parametri si riesce a definire la salute mitocondriale. Come dicevo prima, la dieta è uno degli aspetti più importanti che la medicina funzionale utilizza per migliorare la funzione mitocondriale. Bene, come deve essere l'approccio nutrizionale? Allora, uno, utilizzare dei nutrienti che abbiano un effetto anti-infiammatorio. Poi, ovviamente, anche che siano ricchi di antiossidanti. L'approccio per quanto riguarda la funzione mitocondriale prevede una dieta più ricca in grassi, ovviamente i cosiddetti grassi buoni, poi vedremo cosa intendiamo per... e invece una riduzione dei carboidrati, soprattutto dei carboidrati ad alto indice glicemico, quindi semmai ovviamente dando la preferenza a quelli a basso impatto glicemico, ma addirittura si può arrivare in determinate situazioni ad orientarsi a preferire, a scegliere anche la dieta chetogenica, che prevede veramente una riduzione notevole dei carboidrati. Anche la riduzione calorica è un approccio che può essere utile per migliorare la disfunzione mitocondriale. E l'intermittent fasting, come sapete, ultimamente è molto di moda, se ne parla spesso. Ultimamente è uscito anche uno studio che poneva l'attenzione sul rischio di un aumento delle problemi cardiovascolari in chi seguiva l'intermittent fasting. Io ho scritto alcune cose riguardo il fatto che questo articolo si basasse sui presupposti completamente sbagliati, però non c'è qui il tempo di entrare in questo discorso. E anche, in linea generale, in medicina funzionale è promosso un'alimentazione meno allergogena, e quindi che possa preferibilmente escludere i derivati del frumento e anche tutti gli altri cereali che non abbiano glutine. Quindi, abbiamo detto, è importante di assumere alimenti con un buon livello di antiossidanti, perché sappiamo quanto i radicali liberi hanno un'influenza negativa nel metabolismo del mitocondrio, l'eccesso di radicali liberi danneggia la funzionalità mitocondriale. Però, nello stesso tempo, è anche vero che noi abbiamo bisogno del giusto livello di radicali liberi, fondamentali per promuovere la salute e anche la longevità. E, tra là, è di fatti questo grafico che esprime come fondamentalmente uno stress ossidativo moderato, stimolando l'NRF2, che è il fattore eritroide nucleare, ha un effetto di stimolare la biogenesi endogena degli antiossidanti, quindi un effetto positivo, quindi un moderato stress è positivo. Ovviamente, nel caso di un'infiammazione, noi ci troveremo di fronte a un livello di infiammazione, troppo alto, che se rimane così alto cronicamente produce dei danni, e quando raggiunge il livello dei radicali liberi un livello estremo, questo può generare addirittura dei fenomeni di apoptosi, che è la cosiddetta morte cellulare. Morte cellulare che ovviamente si avviene a livello, per esempio, di certi organi, come possono essere i neuroni, ma anche altre cellule, ovviamente, ha degli effetti molto negativi nell'ambito della salute e della longevità. Ecco, quindi, per esempio, qui ci sono alcune molecole, come la curcumina, il tè verde, il resveratrolio, il sulforafani, l'aglio, dei cose esanoico, che fondamentalmente, così come il digiuno, così come la restrizione dei carboidrati, così come la restrizione calorica, eserzono un moderato stress, che attiva appunto l'NRFV2, e quindi la produzione endogene di autoossidanti. Abbiamo detto anche l'importanza di nutrienti antinfiammatori, che fondamentalmente sono quasi tutti dei fitonutrienti, e quindi l'importanza di fare un'alimentazione plant-based, non esclusivamente vegetariana, o nemmeno assolutamente vegana, ma prevalentemente plant-based, e possibilmente con alimenti colorati, perché la maggior parte dei colori corrisponde proprio alla presenza di molecole che hanno un effetto antiossidante, dai carotenoidi ai flavonoidi, eccetera. Ecco, il discorso dell'infiammazione è estremamente legato alla produzione di energia e praticamente al percorso metabolico dello stress, sono intersecati fra di loro, e queste molecole, resveratrolo, curcumine, epigallopatechine, eccetera, agiscono proprio a questo livello, moderando l'infiammazione, favorendo tramite anche il miglioramento della sensibilità insulinica, elettrizazione di energia, e modulano la risposta dello stress che viene gestito in maniera migliore. Abbiamo parlato dei grassi, quali sono appunto i grassi di alta qualità. Allora, innanzitutto, è importante anche che questi grassi possono essere veicolati facilmente all'interno del mitocondrio. Questo è compito della carnitina, una molecola importantissima, la cui carenza limita la possibilità dell'utilizzo dei grassi a livello mitocondriale, quindi la produzione di ATP e energia. Ovviamente tra i grassi, così di chiamata, tra virgolette buoni, gli omega 3, anche qua sugli omega 3 ogni tanto saltano fuori dagli studi che dicono attenzione, sì, certo, ma i livelli parecchio elevati di omega 3 per varie problematiche possono anche creare degli squilibri, se per l'altro di alterazione a livello, favoremente la fibrillazione atriale, ma si parla di dosaggi di 3-4 grammi di omega 3 in determinati soggetti che hanno già avuto precedenti effetti a livello avversi in miocardico, ma 3-4 grammi di omega 3, considerate che nella classica complessa, complessa la capsula di un grammo di omega 3, in realtà gli omega 3 normalmente sono circa la metà, quindi uno dovrebbe prendere 8-10 complessa la capsula al giorno. L'olio di cocco è un olio molto funzionale per il mitocondro perché è ricco di acidi grassi a catena media, medion centri glicerides, e anche di acido idrossoibutirato che è una molecola che favorisce all'interno dei mitocondri la produzione di corpi chetonici. Appunto, questi medion centri glicerides passano molto facilmente la membrana mitocondriale interna, sapete che il mitocondrio ha una doppia membrana e quindi molto facilmente possono aumentare l'energia probabilmente proprio tramite la maggior facilità di utilizzo dei corpi chetonici da parte del mitocondrio stesso. Come ho detto prima, bisogna ridurre anche i carboidrati soprattutto ad alto indice glicemico, scegliere quelli bassi glicemico, quindi tra un discorso aggetto, stream o trickle, cioè sgocciolamento, dobbiamo scegliere quegli alimenti che ci sgocciolano gradualmente il glucosio all'interno dell'intestino in maniera che venga assorbito più lentamente. Tutto questo ovviamente comporta una miglior stimolazione dell'insulina, comporta una miglior sensibilità dell'insulina, un effetto antinfiammatorio e anche un maggior senso di sazietà che porta quindi ad assumere meno calorie. Sappiamo ormai come il diabete è direttamente connesso a una disfunzione mitocondriale e quindi è la stessa resistenza insulinica. Quindi un'opzione proprio può essere la dieta chetogenica. La dieta chetogenica comporta una riduzione notevole di carboidrati che porta a uno switch, cioè un passaggio dal metabolismo prevalentemente del glucosio al metabolismo invece dei corpi chetonici. E normalmente necessita di un rapporto carboidrati, grassi carboidrati 4-1, cioè 4 volte tanto i grassi rispetto ai carboidrati, o altrimenti potremmo dire un apporto di carboidrati che non dovrebbe superare i 40 grammi al giorno. Quindi considerando i carboidrati che possono essere presente anche nelle verdure, fibrose, anche in parte, comunque nella frutta, eccetera, capite che è veramente un limite non facile da rispettare se non si calcola bene i macronutrienti presenti nei vari cibi. Quando usare la dieta chetogenica? La dieta chetogenica capite che è un approccio di stile di vita un pochino complicato, non gestibile facilmente, magari è poco compatibile con rapporti sociali, eccetera. Beh, quando ci sono problemi di tipo neurologico, di fatto ultimamente è stata particolarmente proposta sia per il Parkinson, per l'Alzheimer, soprattutto ultimamente ci sono degli studi che sono usciti che sono in grado di ritardare la SLA, cioè, quindi, ok, ma anche la sclerosi laterale ammiotrofica, appunto, e di conseguenza io credo che sarebbe senz'altro un percorso che varrebbe la pena provare, ovvio che non è facile, perché quando devi agire sull'alimentazione, sulle persone è molto facile trovare grandi resistenze. Con i deficit cognitivi, resistenza alla perdita di peso, se uno è resistente, spesso se anche fa una dieta equilibrata, con i carboidrati macronutrienti, non cala, e in quel caso lì bisogna proprio ridurre al massimo i carboidrati. Si è verificata anche efficacia nel caso di chronic fatigue e anche fibromialgia, che abbiamo visto è una problematica molto complessa, legata a tanti aspetti, ma senz'altro quello infiammatorio gioca un suo ruolo, sindrome metabolico ovviamente, nell'ovaio policistico anch'esso legato all'insunione resistenza, e ovviamente nel diabete tipo 2. La dieta ketogenica diminuisce l'infiammazione, migliora la funzionalità mitocondriale, migliorando la produzione di ATP, diminuisce la produzione di radicali liberi, riduce la potosi, cioè la morte cellulare, e migliora sia la sensibilità insulinica che la sensibilità della leptina. L'intermittent fasting, che può essere già banalmente utilizzato con un 12 ore di stacco tra la cena e la colazione, quindi uno finisce di cenare alle 8 di sera e fa la colazione dopo le 8 del mattino, dà già degli effetti positivi, e si può fare tutti i giorni, proprio come abitudine, oppure 16 ore, che è quello più facilmente utilizzato, più proposto, però da non fare magari tutti i giorni, anche solo due o tre volte a settimana è sufficiente, tutti i giorni porterebbe probabilmente anche un aumento, un abbassamento del metallismo basale, quindi cosa non desiderata, oppure si può fare 24 ore di raggiungo, cioè si passa dal pranzo di un giorno al pranzo del giorno dopo, ma questo si può fare anche più, diciamo, meno frequentemente. O la restrizione calorica, una restrizione calorica del 20-30% quotidiana, o una dieta ipocalorica intorno alle 600 calorie, che può essere fatta invece, per esempio, a giorni alterni, oppure anche con la dieta mima di giuno, viene fatto magari per circa 5 giorni, al mese o a seconda di quello che il medico può indicare, a seconda delle problematiche della persona. L'intermittent fasting migliora appunto la situazione insulinica, anche se migliora la sensibilità della leptina, favorisce la mobilizzazione dei grassi, quindi può essere utilizzato anche in chiave dimagrante, ovviamente poi l'apporto calorico è il fattore più determinante, anche se sembra che a parità di calorie ci sia lo stesso un dimagrimento, con l'intermittent fasting, cioè c'è un periodo che si dimagrisce, che è quello del digiuno, e aumentano anche in questo caso i corpi chettonici, e aumenta il BDNF, il burn-derived neurofactor, il trophic factor, che è un fattore che migliora appunto la biogenesi dei neuroni a livello cerebrale. Come dicevo, la resistenza calorica di circa del 20-30% comporta per il maschio circa 1400-1800 calorie al giorno, per la donna dalle 1000-1400 calorie. Questo c'è un menù di 600 calorie, che ho detto che è quello che si può fare magari a giorni alterni, eccetera, come potete vedere, la restrizione calorica agisce tramite determinati pathway, che è per esempio l'attivazione delle sirtuine, che hanno appunto un effetto antinfiammatorio, aumentano la produzione appunto dei vari fattori, come dell'RNF1U, e poi agiscono anche a livello dei telomeri, diminuendo l'accorciamento dei telomeri, e di fatti le sirtuine sono delle molecole oggi molto, diciamo, studiate proprio per questo meccanismo prolongevità. Life expanding, e a questo punto, e sappiamo come ci sono molti integratori oggi in commercio, utilizzati proprio per questa loro capacità di attivare le sirtuine. Integratori, integratori della solfodenosine metionina, è un'ottima sostanza, perché è proprio in grado di aumentare i livelli di glutatione intramitocondriale, e sappiamo che il glutatione è una molecola fondamentale per la felicità mitocondriale, perché è quella che serve a tamponare i radicali liberi prodotti dal mitocondio, quando per esempio una cellula del sistema immunitario è in over stress da super lavoro, tipo con l'infezione Covid, e purtroppo invece è stato dato la tachipirina, che aveva proprio l'effetto di bloccare la produzione di glutatione, quindi qualcosa è stato fatto di sbagliato, e di fatti l'acetilcisteina è usata proprio per l'intocicità da tachipirina, ma anche appunto il lassame ha questa funzione, quindi migliorando la funzione di glutatione, e tramite la produzione di glutatione. La carnitina è anche molto importante, fino a 2 grammi si è visto che migliora la fatica cronica, fatica mentale, eccetera. L'acido lipoico è praticamente, fa parte della piruvico decarbossilasi, fondamentale per attivare il ciclo di Krebs e quindi produrre energia, e anche l'acido lipoico entra nel meccanismo di produzione di glutatione, e quindi qui ci sono un elenco di terapie con supplements per potenziare la fatica mitocondriale, con anche i dosaggi, creatina, carnitina, acido alfodipoico, arginina, magnesio, cell food, antiossidanti, vitamina K2, melatonina, coenzima Q10, eniacidigesteina, solfodenzimetinina, sulforafano, chiamina, trasveratrolo, riboflavina, niacina, comunque le avete. Il resveratrolo agisce proprio con un meccanismo attivante, appunto l'MPK, quindi ha un effetto anti-infiammatorio, pro longevità, e sappiamo come il resveratrolo oggi è una delle molecole più studiate come effetto anti-invecchiamento ed è in grado di attivare il SIRT1 e quindi modulare l'effetto della restrizione calorica, quindi potrebbe dare gli stessi benefici pro longevità della restrizione calorica senza restrizione calorica. Cellfood, un integratore che ha dimostrato un notevole effetto positivo nel migliorare la funzionalità endoteliale che è legata a una disfunzione mitocondriale, terapia quantistica mitocondriale di Sergio Stagnaro, qui c'è, non ve la spiego perché perderai troppo tempo, ce l'avete, però vi assicuro che con questa terapia è stato in grado di invertire completamente anche delle istruzioni coronariche del 70%, portandole a livelli non significativi, e poi interventi lifestyle. Ho tolto l'aspetto della fotobiomodulazione perché è già stata trattata precedentemente proprio da esnelire, se no non riesco a stare nei tempi, l'esercizio, l'attività fisica, ovviamente non ci poteva non essere, sia di tipo aerobico che anaerobico, ovviamente anche l'attività fisica funziona in maniera che sia netto low netto wide, deve essere fatta in maniera corretta perché troppa poca attività fisica porta a disfunzione mitocondriale, ma anche troppa attività fisica generando troppi radicali liberi ha un effetto negativo. E poi altre tecniche che fanno parte un po' del biohacking, che è poi una traduzione in pratica di tecniche che sono legate alla medicina funzionale, la doccia fredda o comunque l'immersione in acqua fredda, oppure nella vasca con ghiaccio o l'esposizione al freddo in qualche maniera. Ebbene, anche qui vedete che qui c'è questo grafico a far vedere quali sono le vie di patto e i metabolici per cui l'esposizione al freddo migliora la funzionalità mitocondriale. L'alternanza doccia fredda e caldo, utile, la doccia fredda abbiamo visto è più stimolante, stimola il sistema simpatico, migliora la concentrazione, la calda ha più un effetto rilassante, si possono alternare alle due, la doccia fredda è meglio fare al mattino proprio per una sveglia metabolica, invece bagno caldo magari ha un effetto rilassante migliorando il sonno e il sonno è un altro aspetto del lifestyle fondamentale anch'esso per migliorare la disfunzione mitocondriale. Purtroppo oggi il 50% delle persone, delle popolazioni in Italia hanno problemi di sonno. Per ultimo la meditazione, la meditazione si è vista essere in grado di migliorare l'attività mitocondriale, ovviamente tutte le forme che possiamo inserire nel range di gestione dello stress, il training autogeno, lo yoga, la respirazione controllata fondamentale, e la consapevolezza del respiro anche solo avendo la consapevolezza del proprio respiro, imparando a gestirlo con giusti patto, poche respirazioni sono già in grado di attivare i nostri mitocondri e migliorare lo stress e fondamentalmente noi abbiamo la nostra età e l'età dei nostri mitocondri che quindi dobbiamo salvaguardare. Chiudo, anche io lanciando la diapositiva che propone il corso di alta formazione, la scuola di alta formazione di cui io faccio parte del comitato scientifico oltre che docente, quindi vi invito a tutti. Il libro di Guindale Medicina Funzionale è già citato dall'amico Miceli, scritto da me, Bevacqua, e come coautori molti dei relatori che erano presenti anche tra oggi e domani, che credo che probabilmente sarà proposto anche come libro di testo della scuola, e infine promuovo il mio nuovo ultimo libro che uscirà a ottobre, già disponibile per acquisto in prevendita su Amazon, che è Le tre chiavi della longevità. Le mie tre chiavi della longevità, magri, forti, felici. Passando alle blue zone, alle cellule staminali, passando anche per il biohacking. Grazie, buongiorno.